Bentornato, professor Fabrizio Salvinelli, bentornato professore, perché oggi parliamo di sinusite. Allora, è un problema molto comune in questo periodo perché si accentuano probabilmente disturbi legato a questa patologia. Molto spesso viene anche confusa la sinusite con dei sintomi parainfluenzali, però sicuramente le temperature basse non aiutano. Di questo parleremo con il professor Fabrizio Salvinelli, parleremo anche di una nuova tecnica ideata proprio dal professore per risolvere completamente il nostro problema relativo alla sinusite. Allora, professore, io ho detto che molto spesso viene confusa la sinusite con questi sintomi parainfluenzali, ma in realtà che cosa succede a livello anatomico al nostro naso? Sì, guardate, anatomicamente in questa immagine un po' Shakespeareana, qui vediamo un cranio. Allora, noi abbiamo delle cavità all'interno del nostro cranio, sono i seni macellari che sono qui e sono i seni frontali che sono qui e i seni, cioè cavità etmoidali che si trovano qui e poi delle cavità più profonde che sono i seni spenoidali. Perché abbiamo queste strutture? Servono per alleggerire il nostro cranio, per consentirgli l'elasticità, la robustezza e anche per consentire gli scambi gassosi. Pensate che noi con la nostra testa possiamo andare a 50 gradi al sole nel deserto e poi andare a 50 gradi sotto zero nell'Antartide. Quindi abbiamo un'escursione di 100 gradi e queste cavità paranasali con la loro mucosa e con gli loro scambi gassosi che avvengono attraverso il naso ce lo consentono. Per quello sono importantissime, anche perché sono vicino a strutture nobilissime come il cervello e gli occhi e quindi consentono la normale salute dell'organismo. Per quello dobbiamo tutelarle. Questo è. E allora che cosa succede quando tutto questo, ci sono delle alterazioni? Queste alterazioni, insomma l'infiammazione di questi seni paranasali ci portano alla sinusite. Esatto. Sinusite con quel suffissoite vuol dire infiammazione. Allora voi immaginate che questa mucosa che riveste queste cavità, che ripeto sono fondamentali, si può ammalare per tantissime cause. Tantissime cause, intanto per un'alterata respirazione nasale, perché un alterato flusso aereo non porta alla normale ossigenazione di queste cavità. E poi immaginate quante cause possono essere, per esempio la rinite allergica così diffusa, un banale raffreddore ripetuto, ma anche infezioni virali, infezioni batteriche, infezioni fungine. E poi qualsiasi trauma, per esempio un trauma facciale, i tuffi, questi elementi, e gli sbalzi di temperatura. Gli sbalzi di temperatura dal caldo al freddo. Tutte queste cause che cosa portano? Portano ad un'infiammazione della mucosa di rivestimento dei seni paranasali, che produce secrezione, che crea diciamo quel sistomo fastidioso che è la sinusite. Anche la deviazione del setto nasale, anche insomma alterazioni fisiologiche, professore? Sì, pensate che queste cavità paranasali hanno bisogno dell'aria dall'esterno. Per cui un'alterazione del setto nasale, che non porta a una corretta ariazione, porta sicuramente a una disventilazione. Quindi che cosa succede? Che in queste cavità aumenta l'anidride carbonica. L'anidride carbonica crea una sofferenza sulle cellule e sul trasporto, che noi abbiamo delle particelle estranei verso l'esterno, perché noi ci difendiamo con del battito, delle scilia interne, che portano via lo sporco, portano via i germi e i batteri. Però se l'aria non arriva è come in una stanza chiusa, se noi non apriamo le finestre questa zona si infetta. Ecco, nuoto e tuffi. Allora, pure questo può essere una causa che ci può portare ad un'alterazione. Sì, i traumi in assoluto possono portare a un'alterazione delle cavità che dal naso mettono in comunicazione i seni paranasali. È un po' come dire che noi si chiudono queste finestre e chiudendosi si creano le condizioni per una sofferenza interna. E quindi questi sinusiti, come le riconosciamo? E prima di arrivare però a come, quali sono i sintomi importanti, parliamo del fumo. Sì. Perché molte persone purtroppo hanno questo bruttissimo vizio, ma il fumo distrugge qualcosa di importante, no? A parte, insomma, fa malissimo a tutto il nostro organismo, ma in particolare proprio alla nostra respirazione. Sì, voi pensate, noi abbiamo questo mirabile organismo che è fatto per eliminare le sostanze strane, i virus, i batteri, i pollini, e quindi noi abbiamo sulle cellule un battito ciliare che porta via queste sostanze. Immaginate quindi queste cellule delicatissime che hanno bisogno di essere nutrite. Da che cosa sono nutrite? Dall'aria e dal flusso sanguigno. Se arriva il fumo, la nicotina, immaginate quanto bene può fare a queste cellule. Ora queste cellule progressivamente rallentano il loro battito mucociliare. Alcune cellule muoiono, alcune cellule si trasformano da cellule ciliate in cellule caliciformi che producono muco. E quindi quelli fastidiosi faringiti, erriniti e sinusiti croniche con muco giallastro che si manifesta al mattino al risveglio. E questo è importante perché è una cosa di più per smettere di fumare. Un'altra cosa che fa male. Prendiamo dei sintomi. Quali sono i sintomi? Perché affinché non vengano confusi con gli altri sintomi parainfluenzali. Sì, dunque, questi sintomi della sinusite sono ovviamente i segni della sofferenza di queste cavità. Quindi voi immaginate un dolore pulsante al volto, immaginate un dolore sulla radice del naso, sugli zigomi, un dolore dentario e poi a volte un mal di testa, soprattutto al mattino perché c'è un ristagno durante la notte e un muco denso e giallastro e poi, attenzione, avete mai provato quel senso fastidioso di torpore intellettuale, fastidio, incapacità a leggere, a studiare, a comportarsi? Questo è tipico della sinusite cronica. E poi la fotofobia, cioè il fastidio alla luce troppo forte. E poi una febbricola, una febbricola che ci dà una sofferenza, una debolezza perché ci portiamo dietro un'infezione cronica proprio vicino alle strutture nobili del nostro organismo. È interessante anche sostenere le vertigini perché parecchie persone soffrono di vertigini e magari può essere una sinusite non curata. Assolutamente sì, perché i seni paranasali sono vicino all'encefalo, al cervello, ai tronchi dell'encefalo, dove ci sono i centri dell'equilibrio e all'orecchio, al labirinto. Quindi immaginate una infezione cronica che ci portiamo dietro vicino a strutture nobilissime, quale l'orecchio, che è un organo dell'equilibrio, quale il cervelletto, che è anch'esso un organo dell'equilibrio, quale l'occhio, quindi anche disturbi visivi e disturbi proprio di cefalea che sono il segno di sofferenza del cervello. Ci sono diversi tipi di sinusite, insomma. Questo è importante sottolinearlo perché vengono curate in maniera anche diversa. Come facciamo a distinguerle, professore? Sì, dunque, noi possiamo avere delle sinusite acute che sono delle sinusite che si verificano, per esempio, entro tre settimane, una volta nella vita. Oppure sinusite ricorrenti che si verificano tre, quattro volte l'anno. Sinusite croniche che durano per più di tre, quattro mesi. Bene, in tutti questi casi dobbiamo agire con una diagnosi adeguata e con una terapia. La diagnosi... Ecco, e gli esami che si devono fare, professore? Guardate, allora, sicuramente prima è la visita, perché come sempre sarà il medico che deve decidere che cosa fare. Allora, una visita consente al medico di valutare eventuali alterazioni, alterazioni funzionali, alterazioni nasali. La pressione sui punti algici, sui punti dolorosi consente di vedere un'eventuale infiammazione dei seni paranasali. E poi la visita si svolge con degli endoscopi che entrano nel naso e vedono... Sono dolorosi? No, assolutamente non dolorosi, sono delle ottiche. Semplicemente delle ottiche. È un modo per mettere il nostro occhio un po' più interno al nostro organismo. E poi la TAC, che voi vedete qui una TAC, nell'immagine, che mostra, diciamo, il cranio e l'interno delle cavità. Vedete davanti, accanto al naso, in alto, quelle strutture, quel bianchetto, quello è una forma infiammatoria dei seni macellari. Insomma, una sinusite macellare. Quindi con la TAC noi vediamo le strutture che non vediamo con gli endoscopi. Allora, come si curano le sinusiti? Cioè, prima di intervenire a livello chirurgico, ci sono anche delle terapie mediche, ma anche, insomma, le nuove terapie chirurgiche sono mini-invasive, soprattutto il professor ha messo a punto davvero una tecnica per risolvere questo problema. Restate con noi. Adesso ci fermiamo veramente con una piccola pausa pubblicitaria, dopo aver ritornato in diretta. Restate con noi. Allora, bentornati in diretta. Stiamo parlando col professor Fabrizio Savinelli di sinusite, come curare questo problema che riguarda davvero tantissime persone, soprattutto in questo periodo. Allora, professore, prima di arrivare all'intervento chirurgico, e ricordiamo che il professor ha messo a punto una nuova tecnica davvero mini-invasiva, però prima di arrivare all'intervento chirurgico, ci sono delle terapie mediche che possiamo affrontare affinché la nostra sinusite non diventi cronica. Per cronica, ricordiamo che è una sinusite che per tre mesi, noi soffriamo di questa sinusite per ben tre mesi durante l'anno. Allora, come si cura la sinusite, professore? Guardate, io approfitto di questa presenza di poter sfatare un mito. Attenzione, vedete, in sovrimpressione forse si vede un cartello che si dice gli antibiotici. Gli antibiotici per 8-10 giorni come prima terapia, eccetera. No, assolutamente no. Vi faccio questa similitudine. Le cavità paranasali sono come una stanza. Chi di voi, se ha una stanza chiusa da mesi, entra dentro e comincia a usare un disinfettante senza aprire la finestra? Invece tutti noi che facciamo? Entriamo in una stanza e apriamo la finestra. Poi forse se serve diamo un disinfettante, ma intanto aereiamo. Bene, dare l'antibiotico così immediatamente sulla sinusite no. Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare l'equivalente di aprire la finestra. Cioè dobbiamo aprire gli spazi e quindi un decongestionante nasale, gli spruzzi nasali vanno bene, l'antinfiammatorio locale va bene, gli aerosoli. Se si apre la cavità, il senso di fastidio passa, la secrezione fuoriesce, non c'è bisogno degli antibiotici. Se diamo gli antibiotici inutilmente e creiamo delle resistenze batteriche dopo sei mesi, quattro mesi, cinque mesi, il paziente ha una resistenza a quegli antibiotici. Quindi troviamo quegli antibiogrammi con una serie di antibiotici. Questo vale per le forme acute, professore, nel senso che magari sono quelle che durano pochi giorni e durante l'anno. Poi se tutto questo, se l'antinfiammatorio, l'antidecongestionante non funziona, immagino che sia importante. Certo, l'antibiotico in quei casi va usato. E poi nelle forme croniche, invece la miglior difesa è non avere le sostanze irritanti. Quindi lavaggi nasali. Abbiamo tutti l'acqua, fortunatamente in questo paese, anche l'acqua del rubinetto che è potabile. Ah, va benissimo. Vogliamo portare via i pollini, i polveri, le sostanze irritanti. Meglio con la soluzione fisiologica, ma anche in quell'altro modo. Abbiamo il paese che ha forse il più grande numero di sorgenti termali. Le cure termali sono utili. e poi ovviamente nei soggetti allergici... Il Servizio Sanitario Nazionale le passa, per cui magari alcune, per cui questo, insomma, magari informiamoci dal nostro medico. È un'intervento naturale che noi possiamo fare. Queste sono le terapie mediche. Allora, invece, quando è necessario l'intervento chirurgico? Ecco, come sempre, come sempre, l'intervento chirurgico è l'ultima ragione che interviene quando le terapie mediche non sono efficaci. Allora, l'intervento chirurgico può essere utile per ripristinare una corretta respirazione nasale, levare un'infezione che si è formata nelle cavità, levare anche, eventualmente, un edema della mucosa che può chiamarsi anche poliposi nasale che è una malattia genetica. E quindi questo non si risolve con una terapia medica, si risolve con una terapia chirurgica. Ora, gli interventi chirurgici, insomma, fanno sempre un po' paura, no? Sì. Perché mettono apprezzione, perché magari l'anestesia totale mette paura. Insomma, li guardiamo sempre con molto sospetto. Io so che lei ha messo a punto una nuova tecnica mini-invasiva che, insomma, tanti problemi li risolve, no? A parte che risolve il problema della sinusite, questo è importante, però a differenza anche magari dell'altra tecnica, di che cosa parliamo, professore? Ecco, guardate, io quando stavo negli Stati Uniti e lavoravo e provavo gli interventi otoneurochirurgici, quindi dall'orecchio al naso, dall'orecchio al cervello, usavamo sempre il microscopio e non potevamo consentirci neanche un errore di un millimetro. Allora mi sono detto, ma perché non portare la tecnica microchirurgica anche nella chirurgia del naso e anche in tutti i campi della specialità otorino-ringoiatrica? E quindi abbiamo messo a punto questa tecnica, che è una tecnica microchirurgica associata all'endoscopia. Cioè l'endoscopia la usano tutti, la microchirurgia non la usa nessuno. Le due tecniche, che io ho chiamato MECA, approccio microscopico ed endoscopico combinato, consentono un risultato molto migliore. Guarda Monica, io ti faccio un esempio. Se io do un euro a te e tu dai un euro a me, siamo pari. Ma se io do un'idea a te e tu dai un'idea a me, io ho due idee e tu hai due idee. E così è la tecnica MECA. Sono due euro insieme che hanno due idee. Sono due idee. e insieme fanno una cosa molto migliore. I vantaggi rispetto alla tecnica tradizionale, insomma, di un tempo e che magari tuttora si fa. Ecco, dunque, praticamente questa tecnica che io ho messo a punto consente sicuramente che cosa? Una sicurezza in quello che si fa perché si vede enormemente meglio e quindi si agisce selettivamente, si hanno migliori risultati nella terapia immediata, migliori risultati nel gradimento del paziente, migliori risultati nel tempo e migliore riduzione delle recidive. E quindi, diciamo... Completa eliminazione dell'infezione. Stiamo leggendo adesso in questo momento il cartello che abbiamo preparato dei vantaggi di questa nuova tecnica. Le complicazioni sono molto rare. Ci possono essere, però, insomma, è sempre un intervento chirurgico, ricordiamolo, non per sminuire, però, insomma, è così. L'atto umano ha un rischio. Esatto. Però noi dobbiamo limitarlo all'infinitesimo. Allora, il giorno dopo l'intervento si torna a casa. Sì, assolutamente. Ecco, questo, diciamolo. A volte anche nella sera stessa, ma, insomma, il giorno dopo perché c'è un'anestesia. Parliamo del periodo post-operatorio, che magari, no, un tempo c'erano i tamponi che per tanto tempo dovevamo portarli. Invece adesso anche il post-operatorio con questa nuova tecnica è diverso. Guardi, a volte i tamponi si possono anche non utilizzare. Quando si utilizzano, si tengono per due o quattro giorni, il giorno dopo si va a casa e poi dopo si hanno delle avvertenze molto semplici, dei lavaggi nasali per rimuovere le croste, i coaguli e nel caso di poliposi o di patologie che tendono a riformarsi una terapia medica per prevenire le recidive. Ma in genere, invece, nella sinusite... Una terapia medica con dei farmaci, no? Con dei farmaci, ma sostanzialmente sono a base di lavaggi nasali e terapie locali. Ma questo nelle forme di poliposi, cioè di quelle forme genetiche che tendono a dare una ricrescita della malattia. Invece, nella chirurgia nasale, nella chirurgia dei seni paranasali, poi non c'è bisogno di nessuna terapia e uno respira bene per tutta la vita e pensa ad altro. E perché, insomma, dei vantaggi niente male, insomma, magari un tempo si stava anche parecchi giorni in ospedale proprio perché c'erano questi tamponi a dare a fastidio. Allora, ma tutti possono effettuare questo intervento, professore? Sì, dunque, l'intervento lo possono fare tutti proprio per una ragione semplicissima che è mini-invasivo. microchirurgia significa microgolore, microtrauma. Quindi noi facciamo un intervento selettivo, microscopico, microchirurgico, col massimo di risultati ma col minimo di invasività, che poi è quello che si deve fare, insomma, che deve fare il medico, migliorare i risultati e ridurre il fastidio per il paziente. Questo è importante. Allora, si può prevenire la sinusite o limitare magari affinché non diventi cronica? Sì, guardate, abbiamo detto che tutte queste cavità paranasali ricevono l'aria dal naso. Ricevono l'aria dal naso. Allora, è chiaro che se una persona può stare benino, potrebbe anche dire guarda, perché devo risolvere il mio problema nasale se riesco a tollerare questa situazione? Purtroppo, vi do una brutta notizia. Se il naso è deviato, ad esempio, da un lato, dal lato dove c'è più aria passerà più aria. In questa parte, per esempio, passa più aria e da questa parte passa meno aria. Però questa situazione porterà un'ipertrofia della mucosa, cioè si chiama ipertrofia compensatoria, cioè progressivamente la mucosa della parte buona si gonfia e quindi la persona respira male anche da quell'altra parte. Insomma, se respiriamo male dal naso per un'alterazione ossea, sappiate che la respirazione tenderà a peggiorare, non rimarrà così e la sinusite arriverà. Quindi, come sempre, la migliore terapia è la prevenzione. Quindi, migliorare lo stato respiratorio del naso eventualmente con l'intervento. Poi, evitare gli elementi allergizzanti in casa, areare le case. Oggi, per esempio, noi abbiamo tutti gli infissi in alluminio anodizzato che chiudono e non lasciano passare neanche uno spiffero. Ricordate le belle case di una volta con gli spifferi? l'allergia era molto più bassa. Adesso tutti chiusi, con i soffitti bassi, con i tappeti, magari la moquette, siamo esposti, diciamo, alle sostanze allergizzanti e quindi l'allergia dall'1% è salita al 30%. Gli sbalzi di temperatura, ricordatevi sempre quello che vi dicevo, noi possiamo andare da meno 50 più 50 e tolleriamo queste escursioni di temperatura. Se però andiamo bruscamente da una macchina con l'aria condizionata al caldo fuori e viceversa, siamo esposti proprio all'essio in usita. In questo periodo usiamo la sciarpa, così magari evitiamo, no? Perché dall'ambiente caldo usciamo fuori in questi giorni, soprattutto, sono 0, meno 2, meno 3, insomma, dipende dalle... Assolutamente sì, gli sbalzi di temperatura sono deleteri, l'organismo è fatto per adeguarsi a questi sbalzi e quando si esce dalla piscina proteggersi, per esempio, proteggersi negli sbalzi di temperatura e il fumo. mi dispiace continuare a dirlo perché questo è dannoso proprio per la nostra mucosa. Grazie a professor Fabrizio Salvinelli davvero per queste informazioni così utili, grazie davvero professore, grazie.